La sala Michetti è il cuore di questa trasformazione perché oggi è la negazione di quello che era l'antico chiostro, secondo il progetto invece diventerà uno spazio più aperto, una specie di giardino d'inverno che sarà uno spazio di snodo anche per funzioni nuove che noi realizzeremo, per esempio quella della nuova sala ipogea che verrà sotto la piazzetta dell'emiciclo. La scala in cemento armato è nell'ambiente della ex chiesa, deve essere eliminata per ragioni di rispondenza sismica perché è in contrasto con le strutture murari antiche, quindi noi dobbiamo fare delle soluzioni che non danneggino piuttosto che migliorare le strutture antiche, ma c'è anche la questione che tutto l'ambiente della ex chiesa potrà essere finalmente destinata ad ambienti di grandi adunanze o di esposizioni, cosa che oggi non è possibile e quindi sarà una maniera di recuperare anche questo senso che era quello originario della chiesa.